no ne sta arrivando un altro ma ci sono armi dentro a stacaso non c'è una sega una pistola ma fine di cosa che non ho le armi non ho le armi fida di cosa non ho le armi ho una pistola io ho una pistola cosa ti fido di te ho una pistola verde e una pistola bianca contro gente con smg stink pump trappole ma che cazzo è è gente troppo sensata non va bene dobbiamo cambiare la modalità va in sconto va bene va bene tanto ormai ho give up basta che bello ci vuole la skin delle grandi occasioni ci vuole la skin delle grandi occasioni non c'è tempo di fare uno smurf no ce l'abbiamo ce l'abbiamo tempo di fare già fatto emigrate come face come fecero i nostri api sotto marzo l'altro è davanti a me ha un'arma cattivissima non è possibile 74 e poi gli ho fatto 76 in petto non so più giocare ma gli ho fatto 74 in testa in popshot e poi ho fatto senza mirare in petto stessa distanza 74 che è stamattina stessa stregoneria per andare e manca la sua fiducia possiamo andare a dare la caccia alla gente con una macchinina e vieni qua il mio maiale così mi piace che questo vai marzo rimo quel periodo dell'anno in cui si va in e nei ma io glielo di contatti di porti fare le forcate non le vuole fa vogliamo andare in e allora dopo e poi proviamo in e nei con l'account livello 1 e quali di qua trovati 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 l'ultima compo questo non sa manco come si chiama si no no questo non sa manco come si chiama l'amico manco l'aiuta mamma mia che stilata che mi hai dato ma questo non è l'amico non mi spara eh non ti spara a volte il coso lo so vieni qua pozzetta che pozzone ma poi tutti i 200 hp cioè io due persone ho fai dato due persone 200 hp ma ah ma siamo in squad giusto no giorgio giorgio no cosa no non volevo non volevo non volevo non volevo giuro vieni qua vieni qua ci stanno scar ma lo venga a prendere ma vieni ti a prendere un po' da 5 già ce l'ho se la posso mettere al posto delle cure non sei incazzato no mi vedi dentro dentro come con me perché non mi fai fare le cose che dico e tu non ti fidi mai che vuol dire non mi fidi come ho fatto qua dentro c'è qualcosa che non va con la situazione ma soltanto sotto sotto levati attenta le drappole qua mi aspetto il disagio io che cos'è che chi è che devo ringraziare grazie mille prenditi qua le pozzette c'è i medikit maiale gente 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 sta rifstando qua davanti uno gliel'ho noccato va a salvare amico che cazzo è saltato io ne ho altri qua non capito se sono amici no uno è saltato via da qualche parte campetto campetto è andato sulla montagna west dietro quella sta ma qua c'è un bambino ma è pieno tipo sulla montagna vedi a west pure ce ne sono due ma stanno scappando oddio sei tu ok no sono vanno venendo no 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 aspetta sto prendendo il lutto dove stanno venendo eh dietro la casa quella dietro al parchetto di fronte a 281 ne aspetta è andata sopra la montagna e ma aspetta io sto già qua ne aspetta guarda dove sono sono più avanti oh oh sta accettando allora quello in casa è da solo poi allora no che non me l'ha dato stanno sopra la montagna marzo non c'ha torna indietro no marzo però ci sei andato di cattiveria te oh non mi dire che sei andato in fight me ne sto scappando adesso bravo vieni qua ti do le pozzette smiditi eh vabbè ma porca eh vabbè marzo ma pure tu sei andato in un punto dove era pieno di gente marzo no marzo sei andato in un punto in cui non dovete andare fattelo dire marzo cioè sei venuto proprio e ti sei affacciato con quelli che ci premavano sei malato cazzo non c'entra niente erano sopra di te tu ti sei andato ad affacciare ma io quando spara uno almeno un colpo schicci cazzo c'abbiamo un accanto eh mo non so dov'è ah no è uno morto non è uno morto Giorgio fidati oh merda sotto ce l'hai sotto eh ma io vado sopra il cazzo me ne frega di lui sta ballando chi è? un altro dov'è? eh che cazzo ne so eccolo sotto di me oh 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 tu e questa cazzo di automira eh guarda le guarda le le rampe che mette e moditemi che non ha automira questo eh un altro di ah ma questo è 74 guarda le rampe che mette sono un playstation rampe queste tieni prendi prendi sta prendi sta bozzetta che dobbiamo sfuggire veloce Marzo ti devi sbrigare e ridarmene andiamo prenditi un rampino mentre vai non posso no no Marzo non puoi non prendere un rampino se dobbiamo muoverci velocemente e andare via eh perché dobbiamo fuggire eh io mo come cazzo ti aiuto bravo prenditi un rampino Marzo però dai cadaveri cioè te quel cazzo di cecchino se muori nel oh stai finto aspetta che non so capire il cazzo ho tre medichi mannaccia prendi quel cazzo di rampino ti muovi più velocemente maiale obeso ah io ho pure fini materiali godo e Giorgio vuol dire contro gli obesi contro contro Marzo sono onoressico io non te l'ho bello stai zitta scimmia stai zitta stai zitta stai zitta stai zitta dio santo non ho materiali ma ma sei riuscito a sopravvivere che hai fatto ho ho cotto ma io sto ancora lo sai che dentro il mio cervello penso che ancora che sia duo tutto questo e infatti ogni volta dico ma quanti cazzo sono e invece sto scotto no 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 non spara no no non spara ma non attaccare che mi devo dare il mente sono dentro la casa non lo so si no dobbiamo lutare prima non c'ho un cazzo da lutare qua dentro è pieno di roba non hai pure gli scudi vuoi prendere e volare ma che cazzo non so dove andare Marzo ecco lì al centro allora Marzo stiamo fuori siamo fuori perché sono due team allora Marzo quello sopra in altissimo bellissimo bellissimo c'è uno in basso assista dove vedi il me vola 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 la pe maglia non vedo dove oh mio dio no 60 oh questo mi sta volando in testa meno 100 Marzo sei da solo arrivo da te da dietro da dietro vieni le pozzette vieni le pozzette non esagerare meno 100 ancora a destra dov'è l'altro 17 bravissimo tieni le pozzette tieni le pozzette maiale vabbè Marzo ma stiamo in squad non vale no qua stai citando però eh qua la stai citando eh ma il squad non vale non c'era nessuna imposizione ce l'ho davanti gli ultimi by the way my house ho fatto per cosa che scommesse ti regali sub è la prima volta in due settimane di string di riguarda 10 sono davanti eh ma la farà mai far far perché adesso devo correre lì addosso per farla che se no li ammazza lui e mi ammazzeranno Marzo ti ricordo che la partita ha bisogno guarda 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 già mi saranno ammazzato mi sei messo a fare il quisco perché era la gloria il quisco il quisco l'ho visto gli ultimi andiamo ti sei tolto di nuovo tutta la cazzo di scudi ma io prendo gli scudi per darli a te cioè io non li uso ma vabbè Marzo vaffanculo va prenditi le cure vieni maiale le cure le cure oggi non siete amici comunque è casa pianello dio santo no ma tu non puoi capire cioè io io ho le cure per portarle a lui sono incazzatissimo sono incazzatissimo vieni qua prenditi il loot prenditi la pozzetta di merda vieni vieni la pozzetta viatela vedete sono io che porto il loot al marzone bastardo aggiungerei che cazzo è ce l'ho davanti no merda non abbiamo esplosivi vero ma ho solo due team buono namo no 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 metti un muro davanti a Giorgio giocalo f*** ma mattissimo non c'era che muoia ma vabbè se la risolgo vabbè si è fissima vale che ti dà la kiss per essere partito no 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 come hai fatto mi sono saltato un gol no li ho sparato in testa li ho sparato in testa pur di non darti i venti sali vabbè sei una merda ok le mie dieci bombe allora the real te le avrei potuti io te l'avrei potuto lasciare l'ultimo però ma non devi fare tu devi giocare normale però ragazzi non è cioè dai veramente l'avevo preso era nel mio cazzo di mirino comunque c'avevo dieci shieldini non ne ho usato nemmeno uno per me ma a me non servivano devo andare di luce ma cosa che ti ho dato dieci shieldini a te un po' di 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 un po' di